Siamo qui per raccontarvi di Green Camerota. Green Camerota è una buona pratica per valorizzare le aree interne perché sta costruendo un'ampia rete di volontari e associazioni attraverso laboratori online e in presenza di economia circolare e sviluppo sostenibile. Mi presento, sono Marilena Fiore, volontaria della Proloco Camerota. Mi occupo di attigianato e porto i saluti del presidente. La Proloco Camerota e il CSV Sodalis Salerno stanno organizzando i laboratori coinvolgenti volontari del nostro territorio, del Cilento e di tutta la provincia di Salerno. Cosa molto importante per uscire dall'isolamento invernale e far conoscere tanti posti poco conosciuti, ricchi di tradizione come Camerota Alta, in ogni incontro i volontari raccontano esperienza sul tema del giorno e studiamo insieme percorsi di sviluppo sostenibile con la guida Maria Settembre. Come volontaria sto coltivando nuove esperienze da portare avanti in associazioni e sul territorio.